Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consigliato appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale oggi dedicata alla grave crisi idrica che si era registrata nei giorni scorsi sulla piana di Gela a causa dei lavori di manutenzione alla diga Comunelli. Rassicurazioni agli agricoltori sono giunte già ieri. Sentiamo. Pare avviarsi verso una soluzione la crisi idrica della piana di Gela dovuta alla mancata irrigazione dei campi a causa dei lavori di manutenzione alla diga Comunelli. Fin dalle prime ore della giornata di ieri un gruppo di agricoltori si era radunato in protesta dinanzi ai cancelli della diga Comunelli. La paura più grande, le conseguenze negative e la compromissione della raccolta. Nella stessa giornata di ieri il dirigente regionale del servizio gestione infrastrutture per le acque Alfonso Casalicchio ha rassicurato che l'emergenza rientrerà presto. L'emergenza è stata chiusa definitivamente in senso positivo. L'impresa ha eseguito tutti i lavori che noi gli abbiamo commissionato e che riguardano il rifacimento di parti ammalorate della condotta di servizio irriguo e con altre infrastrutture che sono state realizzate e per questa ragione abbiamo dovuto interrompere il servizio idrico in questi due mesi. Si rendeva necessario che il consorzio facesse una istanza apposita per richiedere l'indegrazione dei volumi idrici da poter essere erogati. Una volta acquisita questa richiesta il servizio decimo sta elaborando il nulla osta di rito e una volta acquisita questa nuova autorizzazione il mio servizio sarà in grado di erogare un'altra volta la fornettura idrica. Questo è il risultato di un lavoro sinergico con tre istituzioni, quindi tra il dipartimento regionale preposto, l'amministrazione comunale, i funzionari che gestiscono la diga e chi lavora all'interno del consorzio di bonifica. L'obiettivo è stato raggiunto, la disponibilità idrica è di nuovo nella disponibilità del consorzio e quindi degli agricoltori, tra l'altro con il rifacimento della rete, con l'inserimento di un nuovo misuratore, di aggiunte tecnologiche per risolvere il problema alla fonte. Gli equivoci si sono chiariti, per cui verrà immediatamente aperta l'acqua per l'agricoltura. I disagi sono grossi perché è da parecchio tempo che non piove, per cui è l'unica fonte, a parte qualche posto artesiano, diciamo così, l'unica fonte di approvvigionamento idrico è la diga, la diga comunale. Quinta notte consecutiva, tre presidi organizzati dai lavoratori dell'indotto Eni in protesta. Niente cambio turno, proprio nel corso della tarda serata non è mancata la tensione. Nei pressi del varco che si apre su via generale Cascino, un pullman carico di turnisti Eni, ha cercato di raggiungere l'ingresso principale della fabbrica, in modo da consentire agli operatori di prendere servizio, dando il cambio ai colleghi, ma niente da fare, gli operai dell'indotto non hanno rimosso il blocco. Alla fine il pullman ha fatto marcia indietro alla protesta, intanto si stanno aggiungendo altri operai con in mano provvedimenti di licenziamento e quindi altri ancora posti di lavoro. Intanto alcuni alberi di Piazza Umberto I sono stati simbolicamente decorati dagli ex operai comeco, da oltre tre anni in attesa di risposte. Ai presidi ci sono anche gli ex dipendenti Pro Control, quelli di Nuove Strade 2001, di Implaca, di Rive Mariani, di Socover, quelli inseriti nel bacino di disponibilità mai concretizzatosi, senza risposte chiare sul prossimo futuro della raffineria di Contrada Piana del Signore. La mobilitazione potrebbe diventare permanente. Gli operai continuano a ricevere la solidarietà di alcuni esercizi. I titolari della pizzeria Metropolis per due notti consecutive hanno consegnato ai presidi decine di porzioni di cibo. I segretari confederali di CGL, CISL, Ignazio Giudice ed Emanuele Gall hanno avuto un confronto proprio con i diversi operai presenti ai varchi stradali. Auspichiamo il rinnovo delle misure di tutela a sostegno del reddito dei lavoratori delle imprese in difficoltà che operano nell'indotto dell'ex petrolchimico di Gela. Siamo vicini ai lavoratori che in queste ore manifestano le loro preoccupazioni, ma il blocco organizzato da giorni ai cancelli della raffineria rischia di essere controproducente, mettendo definitivamente in ginocchio la realtà produttiva anche di quelle imprese che con mille difficoltà continuano ad operare a Gela e a creare occupazione e valore aggiunto per il territorio. Lo scrive in un comunicato stampa Rosario Amaru, presidente di Confindustria Centro Sicilia, a proposito del presidio permanente organizzato presso i cancelli della raffineria da diversi lavoratori delle imprese dell'area industriale di Gela. Siamo consapevoli degli sforzi finora sostenuti, ma rivolgiamo un ulteriore appello al senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, coinvolte, ciascuno per il proprio ruolo e competenze, affinché ci sia un decisivo cambio di passo che consenta una rapida attuazione del lungo e complesso ITER continua Amaru che riguarda la riconversione del sito ENI, specie per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni necessarie per aprire i cantieri. Inoltre, secondo Carmelo Turco, delegato regionale di Confindustria per i rapporti con le imprese dei settori del petrolchimic e della raffinazione, sarebbe utile organizzare al più presto una riunione tra governo nazionale e regionale, così come richiesto dalle organizzazioni datoriali e sindacali, dal sindaco di Gela e dal presidente della regione siciliana, per l'individuazione di soluzioni e misure straordinarie per risolvere le attuali criticità occupazionali e rilanciare la produttività a Gela in linea con il percorso tracciato nel 2014. Confindustria Centro Sicilia, nei giorni scorsi, ha intensificato gli sforzi finalizzati a portare avanti un'azione strutturata che dia sensibile accelerazione all'attuazione dei punti previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto nel novembre del 2014. È stato pubblicizzato e diffuso all'interno dell'intero sistema associativo nazionale l'avviso finalizzato a favorire gli insediamenti produttivi nelle aree disponibili del sito di Gela ed è stata avviata l'organizzazione di attività formative per i lavoratori delle imprese dell'indotto storico. Inoltre è stato fissato per venerdì 18 dicembre un importante incontro con le imprese interessate a sfruttare le opportunità concesse da Enia all'estero per favorire al massimo il loro coinvolgimento in tali procedure e conquistare nuovi mercati anche tramite l'utilizzo degli strumenti contrattuali disponibili per fare rete per rafforzarsi in termini organizzativi e finanziari. In vista di tali obiettivi all'incontro parteciperà nel direttore di Rete Impresa, l'Agenzia Nazionale di Confindustria per la promozione e lo sviluppo dei contratti di rete, il responsabile dell'ufficio di Sace in Sicilia. Cambiamo argomento ma rimaniamo in tema di proteste, sciopero degli studenti dell'Istituto Professionale Enrico Fermi di Gela, questa mattina sono rimasti fuori dalla scuola, sentiamo in questo servizio perché. Rivendicano il loro diritto allo studio in aule riscaldate, pulite e silenziose, decidono dunque di non svolgere le regolari lezioni e restare fuori dall'edificio scolastico, sono gli studenti dell'Istituto Professionale Enrico Fermi di Gela. Allora noi abbiamo raggruppato tutti i ragazzi qui per fare uno sciopero, è da tre settimane che facciamo sciopero per il fatto dei climatizzatori, così pombe di calore, ma nessuno va e provvede, non fanno niente, né lavori né niente, poi ci sono ragazzi disabili buttati nei laboratori che col freddo ancora noi ci muoviamo, andiamo in palestra ma loro stanno sempre fermi, ogni martedì abbiamo qui la fiera che neanche possiamo studiare perché ci sono voci, macchine che suonano eccetera. Durante le lezioni proviamo anche disagio proprio per il freddo e anche per i rumori dovuti al traffico durante la settimana della fiera. Potrebbe esserci questo disagio che è il principale, che c'è molto freddo, ci sono anche molti disagi che però non sono quelli fondamentali di cui parlare, anche tipo la polvere, la manganza di spugnette, gesti e queste cose, però principalmente stiamo scioperando per il freddo e la manganza di attenzione verso la presidione dei nostri riguardi. In questa scuola abbiamo vari problemi, ogni anno le pombe di calore, quelle vecchie, visto che adesso sono state cambiate, funzionano, li accendono sempre il giorno in cui c'è il ricevimento. Questo è un problema che va da anni. I ragazzi qua chiedono i loro diritti, i ragazzi chiedono di poter fare lezione e poterla fare bene, come si deve, al caldo, non essere costretti a tremare dal freddo. I ragazzi qui sono ormai da giorni, quasi settimane, che chiedono un confronto con la dirigenza, chiedere magari un punto di incontro. Non lo so, magari poter fare lezione nelle ore più calde e magari fermarsi a casa nelle ore più fredde del mattino. Questo confronto non si è mai potuto fare. Siamo alla crona che era da poco trascorsa la mezzanotte quando una Toyota è stata avvolta dalle fiamme. La vettura appartiene ad una donna ma è utilizzata dalla figlia. Le fiamme si sono sviluppate in via Attica a Marchitello. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati gli agenti di polizia delle volanti. La pista seguita è quella del rogo doloso. Si cercherà di capire se si sia trattato di un avvertimento che è diretto alle stesse donne. Cambiamo ancora argomento. Apro le mie finestre al mondo è l'iniziativa organizzata oggi al terzo circolo didattico di Gela diretto da Angela Tuccio. Siamo andati a vedere con le nostre telecamere. Apro le mie finestre al mondo è la denominazione della giornata organizzata dal terzo circolo didattico di Gela diretto da Angela Tuccio. Nei due plessi della scuola Santa Maria di Gesù e Benedettina gli ospiti sono stati accolti dalle mini guide condotti attraverso un percorso con la visita alle aule 2.0. Una scuola che guarda il digitale e si proietta al futuro. La Buona Scuola ci chiama quest'anno ad organizzare eventi per la settimana del piano digitale. Eventi che sono già iniziati a partire dal 7. si concluderanno proprio oggi il 15 dicembre. Ogni scuola ha organizzato e organizza eventi particolari che possano metterla in contatto con il proprio territorio per far riconoscere le ricchezze e quanto di positivo si sia fatto negli ultimi anni nella nostra scuola e in tutte le scuole d'Italia. È chiaro che è legato esclusivamente alla legge La Buona Scuola e promuove sicuramente e ingentiva la conoscenza di tutte le tecnologie possibili in ambito didattico. La nostra scuola, devo dire, con questo progetto dimostra di essere già in linea con i tempi in quanto indipendentemente dal progetto che apro le finestre al mondo si è già portata avanti da circa 3-4 anni l'idea di una scuola nuova, di una scuola che abbandona i metodi tradizionali per lavorare con l'innovazione, da lavorare con tecnologie sempre più avanzate. Molte maestre dell'asile hanno voluto organizzare la saga del dolce che la saga del dolce parla di molte mamme che hanno voluto partecipare, hanno voluto fare molte torte a fantasia e molti dolci e comprando questi dolci e queste torte andranno in beneficenza. Tutte le maestre dell'infanzia hanno preparato una sacra del dolce dove tutte le mamme si sono offerte di preparare alcuni dolci. Questa è l'aura informatica dove noi interagiamo con il computer scrivendo poesie, facendo riassunti, testi iscrittivi eccetera eccetera. Possiamo anche fare delle ricerche attraverso internet o Google Chrome. Allora questa è la lavagna a Lemmo, una lavagna interattiva multimediale. Grande successo per la mostra d'arte contemporanea mediterranea che è stata allestita presso il Museo archeologico regionale di Gela. C'eravamo anche noi, vediamo. L'incanto dell'arte contemporanea in una mostra a cura di Salvatore Parlagreco che si è tenuta presso il Museo archeologico regionale di Gela. L'evento è stato ideato dall'Accademia Internazionale Città di Roma preseduta in Sicilia da Maria Ventura. La mostra rappresenta i quadri che rappresentano la natura, descrivono la natura e quello che descrive la natura è l'universale, non è una contemporaneità. La contemporaneità è di quando vengono realizzati i quadri ma da quando c'è l'uomo che si rappresenta la natura. Noi abbiamo qua all'interno del museo raffigurazioni che rappresentano la natura come dice Platone, il concetto di Mimesi, della raffigurazione ideale della natura e nel tempo, con il crescere dell'uomo, questa raffigurazione della natura cambia. Cosa ha voluto rappresentare la mostra allestita al museo sabato scorso? Sì, la mostra ha voluto essere una ripresentazione di una stessa mostra che avevamo presentato l'estate a Ragusa. Inizia un percorso di un gruppo di artisti che in altre occasioni avevo presentato è che facendo una selezione delle loro opere ho voluto condensarle in un catalogo che presenti un po' la storia artistica di questi nuovi soggetti che si affacciano al mondo dell'arte. Alcuni già da un po' di tempo, altri che già l'operano da parecchio tempo, altri nuovi. Questi sono degli artisti più che altro che seguono l'Accademia Internazionale Città di Roma ma già da parecchi anni. Quindi abbiamo fatto precedentemente una presentazione di un catalogo che sono stati selezionati più che altro per quanto riguarda l'arte contemporanea anche se c'è qualcosa che riguarda il figurativo. Si è fatto quindi in questo catalogo e l'architetto, il professore Salvatore Parlagreco si è preso cura di questo catalogo, lo ha curato personalmente lui. Io naturalmente come presidente dell'Accademia Internazionale Città di Roma mi sono presa cura degli artisti cercando di richiamarli, di farmi dare i lavori, le fotografie, curriculum e tutto quanto serviva per poter fare questo catalogo. Sono queste le iniziative che il Comune di Gela, l'amministrazione comunale assieme agli attori principali della cultura vuole e ottiene? Sì, questa è una delle tante iniziative in corso in città sino al 6 gennaio e oltre perché poi continueranno ancora per tutto il mese di gennaio, abbiamo programmato delle altre cose e coinvolgeranno altre location, tipo quella che è in corso di restauro, che è quella di sede alla chiesa di San Giovanni. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, successo di pubblico al concerto organizzato dal Supernus Orde Quester Templi Poveri Cavalieri di Cristo e dell'Associazione Ollus Libera NOS Domine per rendere omaggio a Santa Lucia. Nella chiesetta di Sant'Antonio adiacente la casa di ospitalità Antonietta Aldisio e il maestro Mirko Musco ha diretto l'orchestra di Fiati Renda alla presenza di Franco Mussari e dei componenti il consiglio direttivo della neonata Associazione Libera NOS Domine. Il pubblico presente ha apprezzato l'esecuzione dell'orchestra Renda, composta da circa 30 elementi che hanno creato un'atmosfera magica all'interno della piccola chiesetta. Favorire l'inclusione lavorativa e il reinserimento dei diversamente abili, soprattutto se a seguito di un infortunio sul lavoro, è l'obiettivo con cui prende il via, dopo l'accreditamento del Dipartimento Lavoro della Regione, l'attività dell'Agenzia Lavoro Anmil Sicilia, presentata sabato mattina nella sede nissena dell'Associazione presieduta da Pasquale Cuda, in occasione del Consiglio regionale presieduto da Antonino Capozzo. Nuove regole e tutele per i diversamente abili e per le vittime degli incidenti sul lavoro, gli argomenti che sono stati affrontati durante l'incontro alla presenza, tra gli altri, del Presidente nazionale Franco Bettoni. Dopo l'infortunio, una volta superato l'aspetto medico, l'aspetto psicologico, le persone vittime da incidenti o che perdono un caro, le vedove, gli orfani hanno bisogno di cosa? Del lavoro. Oggi, insieme, l'Anmil ha presentato l'Agenzia del Lavoro che si occuperà sul territorio regionale delle attività di dare lavoro, di dare certezze, di dare futuro alle persone vittime di incidenti sul lavoro, alla disabilità in generale. Questo grazie alla nostra Agenzia, grazie alla vicinanza dell'assessorato al lavoro della Regione Sicilia e grazie a tutti i Presidenti territoriali presenti, soprattutto vicinanza a chi soffre, a chi sta male, a chi ha bisogno di sentirsi ancora persone utili alla società e il lavoro ci fa sentire utili. La disabilità non ha reddito, questo è quello che abbiamo detto e siamo in attesa della sentenza della Corte di Consiglio di Stato che il 3 dicembre, giornata della disabilità, ha deliberato. Speriamo che sia per come pensiamo noi a nostro favore. L'Agenzia del Lavoro Anmil Sicilia, di cui è responsabile Romina Licciardi, oltre a favorire l'incontro tra domande e offerte di lavoro, si occuperà anche della formazione delle imprese, dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità dei soggetti svantaggiati di cui si occupa l'associazione. Uno strumento che servirà anche per sfruttare le opportunità offerte con l'arrivo di nuove risorse finanziarie per la Sicilia, come ribadito dall'assessore regionale Gianluca Miccichè. Sono circa 400 milioni di euro nella prossima programmazione da ora al 2020. Il percorso sarà molto semplice, costruire insieme dalla base. Gireremo la Sicilia nei primi mesi del 2016 e raccoglieremo le istanze che verranno dal territorio mappando le esigenze del bisogno, della povertà, della disabilità e solo dopo aver avuto un quadro completo che verrà da chi sarà poi beneficiario di queste risorse potremo pubblicare i nuovi bandi che saranno finalizzati a queste istanze che raccoglieremo. E adesso la nostra consueta rubrica in breve, vediamo. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Divina Misericordia. Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Seconda mostra di presepi, presepi in comune realizzata dalle scuole locali, promossa dall'Associazione Turistica Proloco Gela. Si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio a Palazzo di Città. Previsti intrattenimento e degustazioni, l'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. L'inaugurazione è prevista per sabato 19 dicembre alle ore 18. Continuano gli appuntamenti col Grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela, giovedì 17 dicembre, concerto di Antonella Ruggero, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21.00. Per informazioni, rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20.00. Per informazioni 0933 91 18 92 345 58 80 580. Prenderà il via stasera la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo spettacolo 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Oggi primo spettacolo alle 21.15 con Gianni Nanfa. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale. Mostra di presepi, vita di Gesù, di Francesco Bonvissuto. Fino al 10 gennaio, pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostra di presepi, albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco, a Cantina Sociale. Sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita, presepi artistici. Fino a domani nella chiesetta San Biagio, mostra dell'artigianato femminile, creative Natale 2015. La vita non si spiega, si vive. Un motto di poche e semplici parole, accompagnate da tanta collaborazione e solidarietà. La stessa che ha unito numerosi club service ed associazioni della città, insieme per sostenere la ricerca sulla prevenzione e cura delle malattie genetiche. È la serata di beneficenza promossa da Teleton che si è svolta nelle sale di un noto locale in Issenu. Un impegno portato avanti da più di 25 anni, sostiene Paolo Lapaia del coordinamento provinciale Teleton, di ciò che con il passare degli anni è diventata una vera e propria maratona di solidarietà, accompagnata da una cena di beneficenza, momenti musicali e danzanti. Teleton da 5 anni è presente in questa provincia, in questa sera iniziamo la serie degli eventi che si svolgeranno di qui a Natale. È con piacere che tutti i club service di Caltanissetta, che ringrazio calorosamente per essersi voluti spendere per Teleton, questa sera hanno organizzato questa serata di beneficenza. Saremo tante persone che in un momento di convivialità riusciremo a raccogliere fondi per quella che è la ricerca scientifica di eccellenza di Teleton per le malattie rare. Ringrazio la città che ospita questa manifestazione e spero che d'orina avanti sempre di più l'agenda venga coinvolta per riuscire a essere sensibile. Madrina della serata, Grazia Ugello, che per l'occasione ha presentato ai numerosi partecipanti, circa 200, i presidenti e i soci delle associazioni che operano sul territorio. Anche quest'anno mi ritrovo ad organizzare insieme agli amici dello staff una serata Teleton per me è importante. Io parlo di Teleton e mi batte il cuore perché so cosa c'è dietro. C'è una fondazione che si prende cura di tanti bambini affetti da malattie genetiche molto rare e in virtù dei fondi, quindi dei finanziamenti di moltissimi, di milioni di italiani, di centinaia di aziende si riesce a finanziare la ricerca biomedica eccellente. Grazie al loro lavoro molti bambini avranno la speranza di un futuro libero dalla malattia. Siamo all'informazione cinematografica, è Leone nel Basilico, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, 17.30, 19.30 e 21.30. E lunedì 28 dicembre alle 21, la compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Anna Brisco, la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri, la regia di Giancarlo Bella. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo che notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci! Grazie a tutti!